come dice daniele di benedetti che è uno dei miei idoli fantastici e lui girava girava questi video ma non solo profilava nessuno poi ripetendo ripetendo poi piano piano mettiamo le tre parole che possono aiutare le persone in un secondo perché chi vede questi video youtube in qualsiasi ha bisogno di acquisire un qualche cosa che possa utilizzarlo nella vita per esempio io adesso con tutte le competenze che ho potuto acquisire per fare queste dirette ultimamente sono stato anche contattato da paio di dottori che disperati chiedevano di imparare a fare le dirette e fare corsi online queste cose per farle ti puoi avvalere di professionisti ma anche vero che bisogna impararle per noi stessi perché a tempo reale come una televisione come un film tu puoi essere partecipe in prima persona per trasformare quell'idea in realtà e questa è realtà parlata insieme a voi quindi viva la vita viva imparare le cose star bene con noi stessi e noi ci siamo ritagliati una nicchia di mercato che è l'allungamento io sono un parrucchiere da 50 anni so tagliare so acconciare so fare anche delle cose incredibili però ho imparato anche a fotografarle a riprenderle a raccontarle e perché questo è il modo di vivere se dei dottori mi vengono a chiedere che devono imparare c'è bisogno di competenze quindi ci sono lavori che nascono e lavori che muoiono e quindi anche nel nostro campo della parruccheria attraverso la sensibilità del parrucchiere ma c'è una proposta di legge per fare l'università per fare il parrucchiere che sarebbe fantastico così uno potrebbe acquisire delle competenze migliori come qualifica professionale nell'ambito della parruccheria per esempio io me stesso sono specializzato sull'allungamento di capelli perché ne parlo da quando mi alzo a quando vado a dormire ma se potevo parlare del colore sarei diventato un campione nella colorazione e quindi questo ci fa pensare che dobbiamo solamente guardare dentro noi stessi vedere le nostre attitudini e noi estensore gruppo vogliamo insegnarti questa cosa qua a te parrucchiere che mi stai ascoltando ma puoi anche vivere la tua vita come la stai vivendo adesso però è anche vero che dentro una parrucchia se noi utilizziamo 9 aggettivi aggiungiamoci l'aggettivo extension per farli diventare 10 e farlo entrare nella nostra routine che tanti parrucchieri mi dicono ah no questo è un quartiere che le station non è vero se non parli non crei valore e se non crei valore non crei economia quindi il calori con estensore group è una persona semplice che piace è appassionato sulle station e mi piace motivare il parrucchieri perché nel momento che un parrucchiere è motivato guarda caso escono fuori allungamenti di capelli proprio dalle sue clienti e quindi allargare come estendere non nella lunghezza ma nei piccoli inserti per raggiungere subito un risultato questa è l'innovazione delle persone che sono appassionate o centri appassionati di allungamento di capelli con i piccoli appassionati di allungamento di capelli